L'associazione Vale del Menotre e la Proloco di Vescia e Scanzano presentano Vescia di Foligno, Perugia, Frantoi del Menotre il più grande appuntamento di Foligno dedicato all'olio nuovo nei pomeriggi del 6 e 7 novembre una manifestazione con un weekend ricco di sorprese si va dal mondo enorastronomico tipico delle attività locali con le cornie da gustare in un trifood al centro del paese alla possibilità di acquistare l'olio nei banchetti e frantoi locali oltre alla visita nei medesimi con degustazioni di bruschette e altro con l'olio nuovo sarà presente il capo vaneltes Angela Canale della Sopralubria che coordinerà il tavolo degli assaggi degli oli nuovi a confronto non mancherà il divertimento per bambini e adulti dai cani itineranti alle giostrine la musica dedicata ai giovani e non solo arricchirà il programma anche l'arte e l'opi nel carnet c'è un'esemporanea di pittura di una mostra di affissi provenienti dall'Italia il tutto curato da Carapacea McCart una direzione artistica di Mariolina Savino a seguire una mostra mitologica con ricette e consigli su come cucinare i funghi ed una mostra bonsai con piccola dimostrazione di come nasce una pianta vi aspettiamo sabato 6 e domenica 7 novembre a Vescia di Foligno, Perugia per il più grande appuntamento di Foligno dedicato all'olio nuovo Frantui del Menotra Info 338-500-0066-366-2893-503